Come è fatto un parallelogramma con tutti i lati congruenti? Questo è un rombo. Di solito viene disegnato in questo modo, con le diagonali parallele ai lati del foglio. Quali proprietà hanno le diagonali? In aggiunta alle proprietà delle diagonali di tutti i parallelogrammi, sono perpendicolari tra loro e sono bisettrici degli angoli interni. Infatti, dividono il rombo in quattro triangoli rettangoli congruenti. Per calcolare il perimetro, bisogna sommare le misure dei lati, che sono tutti congruenti. Quindi il perimetro di un rombo è il quadruplo della misura di un lato. Se si conosce il perimetro di un rombo, per calcolare la misura del lato, bisogna dividere per quattro.